Ok, ciao ragazzi, daremo il vera in volo sui cieli di Norma Vediamo un pochino Eccolo lì ha i coi boyfriends, eh? Ah, l'accia, l'acqua, l'acqua, l'acqua Lo so, li danno pure l'acqua, l'acqua, l'acqua Oh, forse, non è detto Se vuoi, poggiatela anche sui ginocchio, la sentita, brava, così Riprendere quello che vuoi, vedi un pochino Adesso giriamo qui, cerchiamo di vedere se c'è aria o non c'è aria Ok, eccola, un po' d'aria c'è I gambi, tienile a centrare, capito? Allora, non ti farei sbarbottolare con l'acqua, quella fina, sì, brava Sì Da, già, già, sub, sub, sub Siamo altini Stiamo salendo Stiamo andando Abbastanza dietro Succede che questi cumuli Che dovrebbero tirarci su Ci stanno tirando tanto su Ecco la fissa qui Ma così E' un po' Un'altra terra E' un po' Stiamo fuori E' un po' Io hai ricavito la macchina? No Beh a limite Giancarlo c'ha la sua Perché se lo vanno giù Ti piace? Si Hai visto che ce l'abbiamo fatta? No No Adesso che arriva il freddo Per le giornate In realtà si Però ancora fate le giornate Come puoi vedere Sì Un po' Sì Però almeno Ci siamo riusciti C'è Qui c'è Poi c'è Giancarlo sale Un po' Un po' Un po' Ma Anticoli era brutto Anticoli adesso è proprio finita Ah ok Un po' Un po' Non li posso fare Perché Posso fare Perché Un po' Un po' Un po' Io non vorrei fare Anticoli Ma se non c'è la condizione C'è Un po' Ma più che altro perché su Freedom Non era Allora Freedom Era questi Manghetti Con Fu de goli Tu avrai scelto quello di Dio Ma in realtà Poi In realtà Noi siamo Sky Experience Davido Se tu venivi a volare direttamente con noi E cosa succedeva? Succedeva che I voli Dopo questo Erano a 50% Ah E allora E allora C'è un po' cosa fa Ma al di là di questo Lui ti ho mostrato dei pacchetti Poi non sono molto chiari loro No infatti Perché Non sono a diretti ai lavori Fisci Noi invece Siamo a diretti ai lavori Diciamo Guardate qui La giornata La decina di te Allora Cioè Pilota Perché È proprio È solo Difficile In base alle condizioni Esatto Non è una cattiveria No no È proprio È proprio Una questione di Sicurezza Tante cose Però È la prima cosa È la sicurezza Che tu voglio Visto Ok Posso portarti in un posto dove Cioè Decogliamo Andiamo giù Che volo è No infatti Anche per Un spreco di soldi Esatto Infatti Non è da nulla Sono buoni Sì sì Infatti Per quello Posso portarti In un posto dove Non è buono Capisci Qui Ci sono Giù Ci sono Vicini Facciamo Un testo E Un testo Un testo Un testo Un testo non è nada è abbastanza sfollatino quando c'è tanto vento non ha giunto più allora questa è un'attività sono correnti ascensionali tipo dei polinelli che salgono ciao da Remo e Vera con la Sky Experience ragazzi venite a volare non state sicuramente ciao 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 ciao